Giornata molto importante sul fronte diplomatico, abbiamo forse già l'immagine ad Antalya in Turchia, eccola qui, il confronto tra il ministro degli esteri russo Lavrov e quell'ucraino Kuleba, il primo incontro diciamo a questo livello, c'è la mediazione della Turchia, Lavrov prima del faccia a faccia con il ministro ucraino, ha parlato con il ministro degli esteri turco e sembra che la Turchia stia lavorando per un vertice direttamente tra Putin e Zelensky. Poi stasera c'è un Consiglio europeo informale a Parigi dove i capi di Stato e di governo continentali ovviamente si occuperanno del conflitto in Ucraina, delle ripercussioni legate alla crisi energetica e forse anche di un'accelerazione che di fatto potrà esserci sull'esercito comune europeo. Insomma è una giornata molto importante. A proposito del negoziato, dobbiamo ricordare che il presidente Zelensky ha detto che è pronto a discutere dell'eventuale status neutrale del proprio paese ma che non intende recedere un millimetro del proprio territorio mentre sapete che Putin ha già chiesto ripetutamente il riconoscimento delle due repubbliche autonome del Donbass e anche della Crimea. Saluto i nostri ossi.